Ciao, sono Francesco. Insieme ai miei due soci ho aperto Sherwood, una caffetteria etica ed artistica in piazza Santa Giulia 1E, con fornitori che provengono dal panorama bio, eco-solidale e VEG. Consiglio a tutti di frequentare un corso all'entrino metico slid per apprendere il tutto bagaglio culturale necessario per aprire la propria attività nel campo della ristorazione. Consiglio a tutti di frequentare i corsi proposti dall'entrino formativo slid, se volete anche voi diventare il futuro del ristoratore di Modano.